Un solo obiettivo, ottenere la prima vittoria della stagione. Adesso ne parliamo, ma intanto vi do il bentornati ad una nuova puntata del Figi di AC Milan Inside. Come tutti sappiamo, stasera il Milan ospiterà il Venezia a San Siro e saranno presenti 70.000 tifosi. Torna in campo Teo dopo essere partito dalla panchina durante la partita contro la Lazio. Ci sarà anche il nuovo arredato Tammy Abram che si è presentato molto bene nella sua prima partita in rosso-nero. C'è quella che per me è un'attima notizia perché dopo averlo visto nelle partite dell'Olanda, Reinders, come ho spiegato, dovrebbe essere schierato da Fonseca in un ruolo più avanzato. Partirà da titolare Gabbia e accanto a lui vedremo Pavlovich, ci sarà anche Fufanà. Passiamo al settore infortunati, Morata recuperato dall'infortunio durante la pausa nazionale e partirà dalla panchina. Mentre invece Ciao non ha recuperato la distorsione subita alla caviglia e salterà la partita, così come Calabria che dovrebbe aver ricevuto una botta in allenamento. Convocato anche Bartesaghi del Milan Futuro e anche Kevin Zeroli che dovrebbe sostituire Ben Nasser come avevamo ipotizzato a inizio settimana. Che dire, speriamo non ci siano infortuni a sorpresa e vada tutto liscio fino alle 20.45. Non sarà presente Ibra a San Siro perché è impegnato in un corso professionale della durata di due settimane e non è dato a sapere nulla di più e nulla di meno. Facciamo poi complimenti alla Primavera che ha vinto 4-1 sull'Empoli firmando così la loro terza vittoria stagionale. Per oggi mi fermo qui, stasera come sempre tutti davanti alla tv e ci vediamo domani con una nuova puntata del FG 10.000 Inside.